Ciao ragazzi, bentornati sul canale del coach. Una cosa veloce, hai visto il mio ultimo video qualità o quantità? Perché non gli vai a dare un'occhiata? Magari te lo lascio giù nelle descrizioni e mi provi a dare il tuo parere. Ci tengo particolarmente a questo video. Ok, quindi in questo piccolo spazio oggi vi ho organizzato 8 esercizi, quindi il coach ti regala 8 esercizi abbastanza intensi. Sono esercizi non molto difficili, ma come dico sempre di difficile non c'è nulla se no quello di provarci. Ok, allora metterci dai un'occhiata a questi 8 esercizi che ti ho preparato, servono per allenare tutto il corpo. Quindi si parte dalle gambe, alle braccia, quindi glutei, addome, schiena e in questo caso si passa anche dalle spalle, insomma dai tricipiti, proprio con total body in questi 8 esercizi. Come dico sempre, negli esercizi cosa molto fondamentale è cercare di fare contrazione continua con gli addominali, quindi stringere sempre l'addome. A proposito di questo, se ti va, proverò a lasciartelo anche sotto, c'è un video che ho creato su antero e retroversione del bacino. È un video veloce, però ti fa capire questa antero e retroversione, come chiudere bene l'addome, quindi imparare a stringerlo costantemente nei tuoi esercizi, perché uno, ti renderà sicuro i tuoi allenamenti, due, ti aiuterà a contrarre costantemente l'addome. Vedrai che troverai molto, molto efficace questo semplice movimento. A proposito di questo, ti dico che ne sto preparando un altro più specifico per farti capire e applicare bene anche questa tipologia di movimento. Quindi questi 8 esercizi, ragazzi, mi raccomando, la cosa importante è non andare di fretta. Focalizzate bene quello che state facendo, andate lenti, piuttosto preferite qualche secondo in meno e non qualche secondo in più. Sto parlando di velocità. Ok ragazzi, grazie per essere passati da queste parti. Se hai qualche domanda, qualche dubbio su questa tipologia di esercizi, puoi scrivermi giù nei commenti. Se ti piace il coach e i suoi tutorial, lascia un bel mi piace così aiuterai a far crescere il mio canale. Se proprio vuoi esagerare, iscriviti al canale e attiva anche la campanellina così non ti sfuggiranno gli altri video. Io ti ringrazio ancora e allenati in bello. Ci vediamo ai prossimi. Ciao!